Stelano Sport rappresenta tantissimo per me, mi accompagna e ci accompagniamo da un sacco di anni, praticamente dagli albori della mia carriera. Con Stelano Sport sono riuscito a crescere anche come uomo, come persona, mi ha insegnato molte cose, mi ha messo davanti a molti aspetti della vita e gliene sono grato. Io ho cercato di fare altrettanto portando le mie esperienze tramite Stelano Sport, nelle scuole, negli incontri, dove ovunque ce n'era bisogno, cercando di far appassionare ai valori veri dello sport, che Stelano Sport promuove al 100% i ragazzi, generazioni future o comunque chi veniva ad ascoltare le nostre uscite. Quindi io con Stelano Sport ho un rapporto davvero particolare, rappresenta molto per me, una parte integrante alla mia carriera. Cosa invece hai detto oggi nel tuo intervento? Abbiamo detto tante cose, fondamentalmente ho raccontato la mia vita, la mia vita da atleta, che è incominciata fin da bambino all'età di 4 anni, dove sono entrato in piscina e non ne sono più uscito, fondamentalmente. E ho raccontato quello che ho imparato, facendo fatica in piscina, facendo fatica in mare, gareggiando, girando il mondo. Tutti i valori che sono importantissimi nella vita di ognuno di noi e la rendono una vita retta, una vita giusta sotto certi aspetti. Perché lo sport nella sua totalità insegna dei valori che ci mandano avanti con lealtà, con rispetto delle regole, la voglia di faticare e di non tirarsi mai indietro davanti alle sfide, la forza di reagire davanti a una sconfitta. Tutto questo lo sport ce lo insegna e tutte queste cose le ritroviamo nella vita quotidiana. Quindi oggi ho raccontato la vera importanza dello sport. Grazie.